Oggi il Senato ha definitivamente approvato il codice della strada, all'interno c'è anche la norma che prevede l'autorizzazione al Barca Velox, così l'abbiamo denominato, il sistema tutor in Laguna di Venezia per misurare e per contenere la velocità e il moto ondoso. L'avevo annunciato l'anno scorso alle Stati Generali, abbiamo poi presentato emendamenti insieme al Governo, adesso ci attendiamo di aprire le interlocuzioni con il Ministero dei Trasporti per costruire l'autorizzazione vera e propria e poi inizieremo un confronto con le categorie per iniziare un periodo transitorio di messa in funzione di questo sistema, in maniera che la gente capisca che se dovrà andare più piano in Laguna e soprattutto in certi canali e discuteremo anche dei limiti di velocità e vedremo gli effetti insieme, costruiremo un tavolo anche di monitoraggio, ci sarà un periodo sicuramente di gestione, però come avevo detto siamo arrivati al risultato. Sono contento e ringrazio il Governo e il Parlamento.